Giorgio Meloni al lavoro per la definizione del nuovo esecutivo. Oggi la leader di Fratelli d'Italia riunisce gli eletti del suo partito a Montecitorio, primo passo di una serie di incontri, per cercare di comporre il quadro del futuro esecutivo. La casella più delicata nella trattativa resta quella del MEF dopo il no di Panetta, ma restano da decidere anche altre posizioni e ruoli chiave. L'obiettivo, come chiarito sabato, al termine del vertice di Arcore con Berlusconi e Salvini, è fare presto. Intanto sono iniziate le operazioni di registrazione dei parlamentari e neoeletti in vista dell'insediamento delle Camere e dell'elezione dei successori di Fico e Casellati. Grazie per la visione!